Stefano Capuzucca, DS del Livorno, l'ultimo colpo degli Amaranto è Milievski, questo attaccante ucraino che ha fatto coppia con Shevchenko anche. Beh, non è proprio un colpo, è stato un incontro interlocutore, vediamo. Il Presidente ha voluto conoscere questo ragazzo, c'è stata diciamo una conoscenza, però da qui a dire che Milievski farà parte del Livorno ce ne passa. Manca poco o la situazione ancora è tutta da chiarire, da definire? No, è tutta da definire ancora, è solamente un incontro giustamente per conoscere il ragazzo, per conoscere alcune cose, dettagli anche del suo contratto e tutto, però la cosa è ancora molto lunga. Un Livorno che comunque punta sui giovani, Bardi, Benassi, Piccini, colpi interessanti? Beh, sicuramente la politica del Livorno è quella di cercare di fare una squadra con qualche giocatore che ha un bagaglio tecnico importante di esperienza per la Serie A. E intorno a questi mettere dei giovani interessanti che possono dare con loro entusiasmo un apporto giusto per cercare di centrare la salvezza. Tra gli altri obiettivi si è parlato anche di Strasser e di Bolsoni, cosa ci può essere di vero? Ma di nomi ce ne sono tanti, poi vediamo quelli che riusciamo a raggiungere, che non è facile per noi. Ecco, comunque Nicola avrà una squadra in grado di puntare ad una salvezza tranquilla, questo è l'obiettivo chiaramente del Livorno. Beh, salvezza tranquilla in Serie A non possiamo dirlo, sarà un obiettivo quello di raggiungere la salvezza lottando col coltello tra i denti e cercheremo di ottenerla. Un Livorno che diceva prima dei giovani, è chiaro che comunque ci vorrà anche qualche giocatore di esperienza, si è parlato di Giacomazzi ad esempio. È normale che intorno a questo gruppo giovane, gruppo che ha vinto l'anno scorso, vogliamo mettere qualche giocatore che abbia esperienza in Serie A, che dia il suo porto a crescere la squadra. Giacomazzi potrebbe essere uno di questi? È un nome.